Il clon del Cuomo 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 funzionale al riciclaggio e alla richiesta di contributi Covid è stato colpito da una bomba carta la notte del 23 febbraio scorso ad eseguire il blitz incendiario che si vede in queste immagini sono stati due esponenti del clan rivale del quartiere di Piedimonte a Nocera Inferiore giunti dalla Campania per una vendetta nell'ambito di violente ritorsioni tra clan concorrenti quello del 23 febbraio è l'ultimo di una serie di episodi di conflitto fra clan perché il gruppo che si era inserito qui nel territorio fiorentino non aveva abbandonato l'idea di riprendersi la leadership nel territorio di origine e quindi qui stava ponendo in essere attività da piccoli reati a reati più gravi per potersi autofinanziare e sostenere una seconda parte di conflitto giù nel territorio nocerino sono 55 nuovi casi di covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore ancora una volta non si segnalano decessi a livello regionale sono invece 423 nuovi positivi e 3 i decessi il tasso di positività in lieve calo e si attesta al 2,4% le persone ricoverate nei posti letto dedicate ai pazienti covid sono complessivamente 442 dunque 6 in meno rispetto a ieri 57 in terapia intensiva una in meno linee ingolfate ed attese infinite da una settimana circa come segnalato dai nostri telespettatori di servizi del numero unico CUP della ASL Toscana Centro rendono difficoltosa la prenotazione di esami e visite specialistiche abbiamo verificato proprio di persona guardate prenotare prestazioni sanitarie tramite CUP è ormai da una settimana quasi una missione impossibile allo 055 545454 numero unico dell'azienda USL Toscana Centro la voce pre-registrata ripete sempre la stessa frase causa intenso traffico la preghiamo di richiamare in altri orari un'odissea per tanti cittadini pratesi che ci fanno sapere di aver tentato di prenotare esami o visite specialistiche in diverse ore del giorno ma di aver sempre ricevuto la stessa implacabile risposta col risultato di non essere riusciti a fissare gli appuntamenti necessari in altri casi l'attesa è stata di decine e decine di persone alla cornetta tutti pazientemente in coda per parlare con l'operatore e allora ci abbiamo provato anche noi chiamando per diverse volte il CUP nell'arco di una mattinata questo il risultato benvenuto ai servizi sanitari dell'azienda USL Toscana Centro premere 2 per prenotare prestazioni sanitarie causa intenso traffico la preghiamo di richiamare in altri orari causa intenso traffico la preghiamo di richiamare in altri orari dopo svariati tentativi siamo riusciti ad essere più fortunati lei è il numero 9 e pensare che l'attivazione del centro unico prenotazioni sarebbe dovuta servire proprio per riorganizzare il servizio e ottimizzare la rete ancora qualcosa non funziona come segnalato da alcuni nostri telespettatori un incendio si è verificato intorno alle 17 di oggi al secondo piano di una palazzina in via Poli le fiamme si sono sviluppate in una terrazza ed hanno interessato soltanto la parte esterna dell'appartamento in questione sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per precauzione durante le operazioni di spegnimento è stata evacuata una coppia di anziani che abitava in uno degli appartamenti sottostanti sul posto sono intervenuti anche carabinieri e personale del 118 che ha preso in carico il proprietario dell'abitazione il quale ha riportato lievi scottature a causa di un primo tentativo di spegnimento la polizia municipale ha chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di spegnimento al momento le cause risultano ignote prosegue il dibattito sulla lettera che il vescovo ha consegnato alla città in occasione dell'8 settembre e oggi il commento alle parole del presule è affidato a Confartigianato e Confindustria Toscana Nord Salvare il lavoro e non la rendita distretto del pensare e non solo del fare per mettere a frutto l'intelligenza del lavoro dei tanti mestieri e delle tante professioni che la nostra Prato esprime sono alcuni dei passaggi dedicati al tema del lavoro della lettera che il vescovo di Prato Giovanni Nerbini ha inviato alla città in occasione dell'8 settembre dopo il mondo della politica abbiamo coinvolto anche quello delle associazioni economiche per sondare l'effetto che hanno fatto le parole del presule Come non condividere le parole che Sua Eccellenza ha scritto nella lettera inviata alla città noi ci rivediamo in quelle parole e ne traiamo spunto per la nostra attività futura non rimpiangere il passato perché il passato è quello che ci ha fatto diventare ciò che oggi noi siamo per cui è stata la base, la cultura di quello che oggi è il nostro essere salvare il lavoro, non la rendita dove la politica prevalga sulla finanza perché è salvando il lavoro che si salvano gli uomini e le donne intrecciare e utilizzare le diverse intelligenze che questa città mette a disposizione e quindi veramente utilizzare attraverso le capacità di tutti le miglior competenze per creare un futuro migliore e soprattutto utilizzare e rivolgersi ai giovani e in questo particolare momento anche di livello internazionale aggiungeremo i piedi e pensare quindi anche alle donne l'invito del Vescovo è stato accolto positivamente anche da Fabio Romagnoli vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Gli stimoli che vengono da Lettera del Vescovo sono nella loro semplicità di particolare acutezza ne leggo un passaggio non dobbiamo rinchiuderci in idee staccate dalla realtà nel rimpianto del passato tanto tenace nei pratesi degli ultimi anni o nella tentazione di riprodurlo da queste parole nasce lo stimolo a guardare al futuro inutile infatti cercare di tornare a un passato rimpiangere un passato cercare di tornare a cose che non possono più esistere Prato è stato grande quando è riuscita a sintonizzarsi un tempo col mondo di allora ed ora può continuare ad essere grande sintonizzandosi bene con il mondo attuale giornata di festa per le suore di Santa Maria del Rosario domani alle 17.30 nella chiesa di San Domenico all'interno della messa presieduta dal Vescovo Giovanni ci sarà la professione perpetua della pratese suor Deborah Tesi e di suor Marianna Occhiuto e saranno festeggiati alcuni importanti anniversari 50 e 25 anni di professione religiosa la messa di domani sarà trasmessa in diretta su TV Prato canale 74 del Digitale Terrestre e sul nostro sito sulle pagine Facebook della TV e delle giovani suore domenicane di Iolo la diretta della celebrazione sostituisce la tradizionale messa prefestiva del Duomo Finanziamenti a medio e lungo termine per un valore di 500 milioni di euro è quanto erogato nel 2020 a livello provinciale da banca intesa sostegno alle imprese e alle famiglie ma anche al mondo della cultura ne abbiamo parlato con Luca Severini direttore regionale Toscana ed Umbria di Intesa San Paolo sentiamo Il nostro contributo alla realizzazione del Festival Settembre Prato è spettacolo va proprio in questa direzione cioè come segno concreto come segno tangibile dell'attenzione che il nostro gruppo riserva a Prato alla città di Prato e al comprensorio pratese nel suo complesso Il gruppo Intesa San Paolo che a Prato e provincia conta 28 filiali 4 direzioni di area e 400 dipendenti prosegue nel suo impegno a favore del territorio l'ultimo intervento è stato il sostegno al Festival Settembre Prato è spettacolo ma nel 2020, anno del Covid il gruppo bancario ha rafforzato la propria presenza in ambito locale erogando oltre 4.000 finanziamenti a medio e lungo termine a livello provinciale per un valore di 500 milioni di euro Ma non solo abbiamo perfezionato moratorie per 7.800 interventi cioè a dire 7.800 sospensioni del pagamento delle rate riferite ai finanziamenti a medio e lungo termine sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda le imprese Sempre nel 2020, Intesa San Paolo ha poi finanziato a Prato il progetto Insieme in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato l'Assessorato al Sociale del Comune e l'Associazione Spes Docet mettendo a disposizione 100.000 euro Obiettivo aiutare le famiglie colpite dalla crisi da Covid soprattutto sul fronte alimentare e su quello del disagio abitativo Importanti anche gli interventi in ambito culturale con il supporto alla mostra di Chiara Fumai al Centro Pecci e l'allestimento Turandò e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba al Museo del Tessuto E per il futuro, quali sono gli obiettivi della banca in città? Per seguire la crescita, quindi la ripresa economica attraverso il sostegno all'economia reale costituita dalle famiglie e dalle imprese che vivono nel territorio pratese ma direi nel territorio di competenza della mia direzione regionale Tutto pronto per la finale della Palla Grossa 2021 domani all'arena allestita negli spazi esterni dell'Estra Forum la sfida tra rossi e verdi la gara senza pubblico sarà trasmessa in diretta alle ore 17 sul canale 212 di TV Prato in quanto su questo canale andrà in onda la Santa Messa il servizio di Massimiliano Massi Tutto in 60 minuti, se basteranno la finalissima della Palla Grossa 2021 è pronta ad andare in scena domani alle ore 17 all'arena adiacente al Palazzetto dello Sport e metterà faccia a faccia i verdi di San Marco contro i rossi di Santa Trinità Ho cercato di preparare una squadra responsabile una squadra tosta perché questo è un gioco tosto non è un gioco che lo possono fare tutti sicuramente bisogna stare attenti perché i rossi sono una bella squadra organizzata bene nel 2019 hanno vinto loro meritatamente perché hanno creduto più loro a tutto che noi e quest'anno si proverà a rendergli quello che loro hanno fatto a noi Sarà una sfida equilibrata che promette spettacolo i verdi saranno all'esordio stagionale avendo beneficiato del pass per la finalissima grazie all'esclusione degli azzurri i rossi invece arriveranno in finalissima con il vento in poppa la vittoria in semifinale per 26 a 4 sui gialli ha dimostrato la forza della squadra di Buttetta orgoglioso dei miei ragazzi era quello che avevamo studiato l'hanno messo a punto orgoglioso al massimo di loro e della nostra curva che c'è sempre ogni anno ogni anno applausi per loro soltanto per loro orgogliosi dei nostri ragazzi ora pensiamo alla finale lo spettacolo è quindi assicurato con il paleo dipinto dall'artista Mattia Badiani obiettivo di entrambe le squadre nell'aria si respira tensione e incertezza la finale della palla grossa sta per avere inizio domani alle ore 17 sintonizzatevi su TV Prato ne varrà sicuramente la pena e alla palla grossa sarà dedicata la puntata di questa sera settembre in diretta in onda al termine del nostro TG ma per saperne di più ci colleghiamo con il nostro Massimiliano Masi buonasera Massimiliano grazie per la linea siete collegati in diretta con l'arena situata al campo Achilli di Tavola alle 21 l'appuntamento con Settembre in diretta aspettando la finalissima della palla grossa domani alle ore 17 il confronto che vedrà opposti i verdi ai rossi questa sera siamo proprio in casa dei rossi per capire come la formazione del rione Santa Trinita sta preparando questo grande big match quindi alle 21 non perdetevi l'appuntamento con Settembre in diretta aspettando la finalissima della palla grossa non cambiate canale vi aspetto a più tardi linea allo studio sono tre i candidati al sindaco alle prossime elezioni amministrative di Carmignano oltre al primo cittadino uscente Edoardo Prestanti sono in corsa Angela Castiello del centrodestra e l'ex presidente del consiglio comunale Belinda Guazzini con la lista Senso Civico presentata proprio stamani ma sentiamo questo progetto nasce da una richiesta che viene dai carmignanesi fondamentalmente un po' di tempo fa abbiamo accolto questo invito ed abbiamo cercato delle persone civiche cioè che non abbiano alcuna appartenenza a partiti persone che hanno voglia di impegnarsi per il territorio portando le loro competenze e la loro voglia di fare Senso Civico è la vera novità di queste elezioni amministrative cioè noi andiamo oltre le ideologie di destra e di sinistra perché alla fine i problemi sono di tutti i cittadini in un paese come il nostro vale il progetto e valgono le persone che portano avanti il progetto io ho iniziato nel 2016 un percorso con Edoardo Prestanti adenendo a un progetto il progetto nel corso del tempo è cambiato non mi sono più riconosciuta nel progetto e quindi per correttezza sia verso gli elettori che avevano scelto me sia nei confronti di me stessa ho preferito fare un passo indietro Fino a domenica 12 settembre nel giardino della sede di via Monsignor Polino Contardi 13 prosegue la 36esima Sacra dell'Uva la tradizionale festa del volontariato promossa dalla misericordia di Montemurlo con il patrocino del comune spazio a specialità gastronomiche e musica vediamo questo è un evento che sia per i montemurlesi ma soprattutto per la confraternita nostra di Montemurlo della misericordia rappresenta una forma di aggregazione importante perché in questi giorni i confratelli vivono fianco a fianco per tutte le sere servendo ai tavoli facendo tutto quello che c'è da fare convivendo insieme nella fraternità la Sacra dell'Uva è composta da una parte legata all'ambiente culinario con varie specialità che tutte le sere cambiano nella parte invece dei giardini abbiamo le orchestre che tutte le sere cambiano si possono gustare le crepe, i bomboloni insomma tutta la parte dolciaria quest'anno ci teniamo a dirlo appunto questa Sagra è stata improntata nell'ottica del covid free per cui chiunque venga alla Sagra deve essere munito di green pass chi non ha il green pass abbiamo allestito un ambulatorio mobile e con la collaborazione della farmacia d'Orsi qui vicino facciamo i tamponi rapidi antigenici certificati e adesso ci occupiamo di ciclismo nuova affermazione per il giovane Lorenzo Cataldo vediamo insieme il servizio del Massimo Biondi dopo il titolo conquistato nella categoria Juniores il pratese Lorenzo Cataldo vince il campionato toscano anche nella categoria Under 23 conquistando il terzo posto nella prestigiosa Coppa Fiera di Signa andata in scena quest'oggi con un ordine d'arrivo importante primo il Lombardo Persico secondo il compagno di colori il Bolognese Ferri terza posizione appunto per il pratese Cataldo che dopo una stagione sfortunata ricca di infortuni e di tanta sfortuna appunto riesce a conquistare questo titolo prestigioso che riporta la maglia con il cavallo alato a Prato dopo alcuni anni Lorenzo Cataldo non raccontiamo novelle uno sportivo prima del via qui nel bar ti ha detto puntiamo su di te non so chi gliel'avesse detto però ha avuto ragione dopo quella da Junior anche questa da Under 23 ci voleva Lorenzo? Sì ci voleva per riprendersi un po' da tutto l'anno perché comunque sia personalmente non si è riuscito a fare poco quest'anno e niente è un piccolo risultato che ci ha riportato la maglia in casa sia Under che Elite con Ferri che è arrivato secondo purtroppo guardando la corsa ci è sfuggito il colpo a 500 metri dall'arrivo che gli hanno fatto un buco sui compagni e siamo rimasti con 4-5 biciclette di svantaggio e niente abbiamo fatto la volata abbiamo fatto secondo e terzo e adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato ed intorni con la nostra agenda torna domattina in piazza del Mercato Nuovo il mercato di Terra di Prato alle 17.30 all'Oasia Pistica le buche a Poggio Caiano le cascine il bargo della Villa Medicea di Poggio Caiano presentazione del libro nell'ambito delle iniziative dedicate a Giuseppe Bendati a lungo anima dell'Oasia Pistica alle 21.30 Villa Guicciardini a Osella ultimo appuntamento del festival Settembre Prato è spettacolo con lo show di Christian De Sica una serata tra amici fino a domenica 12 settembre in piazza della Pieve a Iolo festa del volontariato a cura della locale sezione della Misericordia con cene a tema sempre fino a domenica alla Misericordia di Monteburlo 36esima Sagra dell'Uva stand gastronomico e serate musicali domani sera Monica Berger domani e domenica appoggia la Malva Sagra della Polenta Funghi Porcini e Cinghiale infine fino a domenica 19 settembre in Viale Marconi prosegue in Luna Park e dopo l'agenda vi lasciamo al meteo a cura del consorzio L'Amm a seguire settembre in diretta con una nuova puntata dedicata alla finalissima della Palla Grossa conduce il nostro Massimiliano Masi l'informazione torna domani alle 13 e 45 con il Tg del giorno tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro nuovo sito internet tvprato.it a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci stop stop purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar abbiamo scelto gli uomini giusti perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni baby gotta head down baby gotta head down to the ground looking for a stranger looking for a stranger to love Prato Pol professionisti della sicurezza non guardi Noi della gelateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino vi aspettiamo in via Carlo Marzio 74 e in via Bologna 159 a Prato Buonasera dal Consorzio Lama questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani possiamo vedere come la pressione sul Mediterraneo centro-occidentale tende ad aumentare ulteriormente tuttavia permangono condizioni di instabilità sulle regioni meridionali la previsione quindi sulla Toscana per domani all'insegna di un cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso temperature minime in graduale aumento mentre per quanto riguarda la tendenza per il pomeriggio vede un aumento della nuvolosità sulle zone interne con possibilità di qualche occasionale temporale sulle zone appenniniche temperature massime stazionare intorno a 27-30 gradi in pianura per quanto riguarda la tendenza per la giornata di domenica avremo condizioni prevalentemente di cielo sereno o poco nuvoloso con ancora qualche addensamento pomeridiano specie sulle zone appenniniche dove non si può escludere qualche locale breve temporale le temperature saranno stazionarie sui valori di sabato con questo dall'Anna è tutto noi della gelateria zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino il nostro è un gelato naturale di fresca mattinazione senza additivi e da sempre senza glutine come i nostri dolci e il nostro yogurt vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Fraso